Gli ho lasciato un panino al formaggio sul tavolo Devi riscoltarlo Nella pagina Vaffanculo Vaffanculo Benvenuti ragazzi in questo vissuto video Su Sbreezer Games Oggi siamo qua su Newspaper Day Ho fatto pure la rima Nella chat qua sopra sono su Twitch Insieme ai miei bellissimi ragazzini Che siamo qua perchè ovviamente Vi ricordo che faccio le live ogni giorno Alle sette e mezza tranne il sabato Mi raccomando venitevi a seguire per non perdermi Queste dirette in live mi raccomando Link in descrizione Ok sono tipo a squo Che bello che non lagga questo gioco Mi sono addormentato di nuovo Mi sa che il compagno di banco non aveva nulla a che fare Ha voluto mettere la sedia così ma va bene Breaking news abbiamo appena avvistato Il pisello più grande del mondo Due corpi sono stati trovati nell'anno a Raymond Street E' stato scoperto che c'erano due uomini Di circa 25 anni Sono stati brutalmente pugnalati E abbandonati nel mezzo della strada E sfortunatamente dalla comunità Un ragazzo di 15 anni è scomparso Chiamato Nick I suoi genitori menzionano che è andato a scuola E non è tornato a casa Sono dalla disperata ricerca di alcune notizie Se ha informazioni Si prega di riferire alle autorità Wow e anche ora le cose sono diventate così orribili Nel quartiere Sospiro E' meglio che torni a casa Prima che venga fatta più tardi Ovviamente tutto il gioco tradotto con il traduttore Certo Certo Ma questa è la scuola di Yandere Simulator palese Entrare la televisuale Per frenare Per scendere Ok Oh ma quanto ca... Mamà E da dove si è? Da sopra da sotto Da sopra da sotto Da sopra da sopra Da sopra da sotto Da sopra da sopra E mia moglie quella Ah no è mia madre Minchia che buona Ciao figlio Se la mamma sono successe Sai mamma Sono successe molte cose nel quartiere Ti ho lasciato un panino al formaggio sul tavolo Devi riscordarlo Nella pagina Grazie mamma Andrò a prepararlo immediatamente Sto morendo di fame Siamo veramente buona Piselli Piselli Dimmi che non hai fatto le immagini con ChatGPT Senza dirmi che hai fatto le immagini con ChatGPT Che devo fare? Ma io è il più piccolo del mondo Devi riscaldarlo Ah Nella fadella Vaffanculo Penso che il mio sandwich Non sia ancora pronto Penso che il mio sandwich È pronto Penso che il mio sandwich Ci sta bruciando Penso che il mio sandwich Penso che ho bruciato la cucina Penso che Dovrei dormire domani il mio primo giorno Fammi leggere Fammi leggere Sonno Ce l'ha scritto proprio sonno È ora di lavorare Devo consegnare questi giornali del giorno Ai residenti della strada Dovrei iniziare con i signori Johnson Mamma Dovrebbe essere la prima casa a sinistra Mamma mia ve lo giuro Mi sto incazzando per quanto Cristo Dio Questi sottotitoli se ne scompaiono subito Mamma Devo proprio andare qua Signor Johnson Signore Devo dare il giornale Buongiorno signor Johnson Ti porto il tuo giornale settimanale Un piacere Spero che ti senta A tuo agio In questo quartiere Consegna il giornale Sì mi chiamo David Sono il nuovo ragazzo Consegna il giornale Che significa Devo decidere Ah devo decidere Ok Dico sì mi chiamo David Ok Grazie giovani Ultimamente le cose Grazie giovani Posso entrare in casa sua Comunque è bella immobiliata Casa sua Veramente Un grande Un grande Comunque Next house The Robinson Qua Già si erano rotti il cazzo Nel tradurre Oddio Non devo consegnarlo quel giornale Bello L'ho posteggiato pure bene A capire Forse devo ritornare a casa Tutte quante immobiliate queste case Ragazzi Sono veramente Veramente bravi Buongiorno signora Robinson Ti porto Il suo giornale Se siete Magne Magne Grazie mille figliolo Vedremo come tutto Nella zona Vabbè minchia Non si capisce niente Perché do che regono Perché un Perché è trattore In mia età È trattore In mia età Next house Signor Smith Un nano No ragazzi Era semplicemente una signora bassa Ma perché Pure io sono nano ragazzi Pure io sono nano Ok Buongiorno signor Smith Ecco il tuo giornale Settimanale Grazie mille Giove Ha pure ruttato Spero che tu abbia Ma mi è chiuso la porta in faccia Ma mi è chiuso la porta in faccia Mentre mi stava parlando Dov'è la sua macchina Che le buchemo le ruote Eccola Next house Mr. Robert Penso che sia la casa più lontana In fondo Oh è quella in fondo Ancora di più Vabbè perché c'è scritto Dead end Se non è dead end Cioè tu veramente Mi stai facendo ripercorrere Tutta la strada Che ho fatto prima Per errore Dai Cristo Dio Ma devo veramente Ritornare nella casa Quella in fondo In culo in culo Ai lupi Oh anzi Bella sta amici ragazzi La voglio pure io Suoni Nessuno risponde Bu non lo so Il bro è spawnato Ha lasciato il letto Qua da qualche parte Ragazzi Probabilmente sarà morto Nel nether Ed è spawnato Qua davanti Eeeh David Oh che paura Mi hai colpito Scusa ragazzo Ti ho visto scappare Sono uscito Dalla porta Sul retro Mi dispiace Per il ritardo Sei l'uomo Delle consegne La persona più lenta Del parlare del mondo Consegna il giornale Sì sono nuovo nel quartiere E ho ottenuto questo lavoro Noi sempre a parlare di più siamo ragazzi Perché a noi ci piace parlare Un piacere Conoscerti ragazzo Spero che divertirti Di fila Ma che significa divertirti di fila Come in che senso Diverderti di fila Cioè che mentre sono in una fila Mi viene a trovare Mi rompe il cazzo Non ho capito bene sta cosa Dovrei scegliere qualcosa Da mangiare al negozio Finito per oggi Spero di vederti In fila Da fila Non ho capito ragazzi Questi giochi Ve lo giuro Mi fanno sempre più sorridere Alla vita Perché a volte penso Meno male Che so l'italiano E so quando Le persone sbagliano a scrivere Vorrei patatine Va bene Grazie per avermelo detto Con una sola mano Con una sola mano Mamma mia ragazzi Ma che posteggio Incredibile Che fate lampiaro Aspetta un attimo Che devo cercare le patatine Quale di queste patatine Tra tutti questi Quadrati png Saranno le patatine Io Voglio Le patatine Fatemi le cazzo di patatine Dove stanno le patatine Eccole qua Le uniche con il modello 3d Ci sta Dal tronde We are frogs Ciao vorrei Comprare Proprio Questo Sarebbe Un totale Di 2,99 Grazie Ho dimenticato qualcosa Nessun problema Minchia ragazzi Qua veramente Le persone Fanno cadere il latte Ma in una maniera Incredibile Cosa 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 ho dimenticato Il cibo per cani Per mia madre Perché è una cagna Mia madre Ha 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 Vabbè non ho scordato Un cazzo In realtà Dai dai Spettiamolo Dai Buona giornata Grazie Che strano per come parlano In questo gioco È troppo tardi È ora di tornare a casa Ma come è troppo tardi Zima ti sei appena svegliato Are you Joking with me Cosa sta succedendo E da un po' di tempo Che non entro Madonna wolf Tu non hai idea Prima abbiamo fatto Dick rating Tutti quanti hanno uscito I piselli E abbiamo capito Chi è che di noi Che ce l'ha più lungo Ecco che cosa Ti sei perso E tu ti perdi queste cose Nelle mie live Incredibile Veramente assurdo Dovresti Vedi Dovresti Guardarti più spesso Le mie dirette Mamma Minchia la mamma è spavonata Mamma Ciao figlio Com'è andata la giornata oggi Mamma tutto bene Andò bene Ero in requietto Solo per alcuni poster Di bambini scomparsi Ieri ho visto qualcosa di streo Nella finestra della mia stanza Non c'era niente Di avere la dipoli Della finestra della stanza Dobbiamo stare attenti Con le persone Di questo Quartiere Non sappiamo Chi correremo Sono qualcosa di Eusausto Sono qualcosa di Eusausto Ho capito Buonanotte mamma No mamma Non guardarmi così Mentre vado a dormire Perché mi fa Inquietudine Incredibile Oggi tocca Una nuova giornata di lavoro Non ho capito Quindi vado a scuola O non vado a scuola io Mamma ha lasciato la colazione Sul tavolo Prima di partire Oh grande Mia madre È una grande La prima casa sarà Quella dei signor Sanders Ah penso che devo andare Nella casa dei Sanders Non so qual è la casa dei Sanders Onestamente C'è scritto Non è questa sicuro Questa è la casa dei Sanders No Horror Certo Pintus Grazie Arrivederci Il signor Thompson Arrivederci Tutte le case Sono senza mobili Le persone dormono Per terra In questo quartiere Vaffanculo Vaffanculo Non me lo merito Non me lo merito io Signor Roberts Ha portato il giornale Ah se tu David Mi dispiace per il tuo Atteggiamento Della notizia Che ho avuto paura A vigile di ciò Che accade fuori E il giornale Consegna il giornale Va bene Ti do il giornale E basta E vattene a fare in cura Ma poi compare ogni volta E mi fa un jam Scrive la prossima volta Ragazzi se me lo fa di nuovo Palese Che strano Sono sicuro Che non averne mai Detto il mio nome Come lo ha saputo Bandera Se faceva sempre così Dovrei comprare il pranzo Per dopo Vorrei mangiare Instantaneo Il brosista Un po' Le conoscenze Delle ultime notizie Hanno trovato Un pezzo di t-shirt In una delle scene Del crimine Penso che possano Presto trovare L'identità Del presunto assassino Oh Questo è uno scatto fortunato Anche se mi preoccupa Forse l'assassino Diventa più cauto E inizia a scomparire Inizia a far scomparire Più persone L'unica cosa Che hanno menzionato È che il colore Della maglietta Era rosso E che si trattava Di un uomo adulto Il bro Di prima aveva La maglietta rossa Ragazzi Quello Nella casa in fondo Ciao Vorrei comprare questo Grazie Ciao Sarebbero Di 3 euro Paga Buona giornata Grazie Spero che qua Le giornate ragazzi Durano un cazzo di niente E ora di tornare a casa Mia madre arriverà domani Quindi sarò solo Si invitano le troie Zio Matti Benvenuti nella chat Ragazzi abbiamo capito Come scendere dalla bicicletta Anche se andiamo A 300 km all'ora L'inerzia in questo gioco Non funziona Le regole della fisica Non esistono Sono le 40 Ok 1 a meno 20 E che mi bussa Wow Che dio me lo sta succedendo Ho sentito qualche vetro Non ho intenzione Di rimanere qui Devo andarmene A cercare aiuto E cercare aiuto Ok Mi è entrato qualcuno Dalla finestra E dove cacchio devo andare Bro Devo andarmene E dove mi chiamere Devo andare Oh sta arrivando la polizia Wow Quello Che è successo Andiamo a controllare Probabilmente la polizia Ragazzi sta andando Nella casa Di quel tizio Penso che siano Andati qua I poliziotti No La porta è aperta Che strano Perché la porta è aperta In questo momento Almeno è l'unica casa In tutto il quartiere A porte la mia Che What the fuck Perché ci sono così tante croci Ok Quindi È sovrannaturale Questa situazione Oh no Perché si parla sempre Del sovrannaturale Quando inizia a parlarsi Del sovrannaturale Io mi cago sempre In mano di più Ma qua c'è un corridoio Enorme Oh mio dio Ma che cosa sto vedendo No Tutto è buio Ho bisogno di una torcia E dove la trovo la torcia Sarà qua da qualche parte Nella cantina Dai Mio dio Per forza Sarà qua in cantina Una torcia Qua no Andiamo al piano di sopra Prova sopra Andiamo a controllare Non mi fa salire Mi rubo una lampada Me la porto da presso Non ho capito Che devo Oh Torcia L'abbiamo trovata Vediamo se c'è qualcosa Vediamo un po' Controlliamo Ispezioni all'interno Di un bunker segreto Mafioso Ecco dove si è andata A nascondere Totorina Mi serviva la torcia Per cosa Per niente Devo aprire questa porta Devo trovare la chiave Bene Devo ritornare indietro È casa di PD Sì È dove praticamente Faceva entrare tutte quante le persone Un po' più strambe Secondo me Provata la chiave Cioè io potevo praticamente Prendere tutta Si è rotto una C'è un gatto Piccolino Ora abbiamo tutto Abbiamo la chiave Abbiamo la torcia Non c'è più motivo Per il quale Noi dovremmo Che diavolo è tutto questo Oh mio Dio È davvero la casa di PD Di questa Attiva Spento Oh Cristo Dio Che cacchio è successo C'è un po' di polvere Qua sotto eh No raga ma È accesa la 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 sigaretta Vabbè ma si stanno facendo una dormita Vabbè me ne devo andare Mi sa che me ne devo andare Io per sicurezza ringrazio Beyoncé Certo 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 Vabbè Ora che ho scoperto questa cosa Andiamo a chiamare la polizia A me non mi sa Quindi No Siamo morti Noi siamo scomparsi Ed eravamo pure buoni Non sei mai stato trovato Nooo Siamo scomparisciuti